Quello che è un risultato che potrà dare una risposta al territorio. Ma dobbiamo guardare appunto anche una collaborazione tra un territorio, città dell'Ese, camposampierese. Abbiamo ospedali che stiamo e vogliamo mantenere con la loro peculiarità, con la loro funzionalità, con la loro professionalità, soprattutto di chi opera a loro interno. Ma molto spesso la politica lavora contro, lavora contro l'interesse di avere magari proprio un'opportunità per il territorio. Qualcuno pensa di fare uno sgarro magari a un sindaco, un amministratore di un altro comune, perché vuole mantenere certi privilegi che magari possono in qualche maniera giustificare la posizione politica e amministrativa di un sindaco di un altro paese.